Sì, molto felice, però molto felice ancora per la squadra, l'atteggiamento molto bene, non ho meritato questa vittoria oggi, però speriamo di fare bene e fare più quest'anno. L'anno corso soffre tanto, per quest'anno bisogna fare bene e bene. Oggi la difesa del Pescara ti ha un po' agevolato in alcune giocate, soprattutto in occasione del gol del 2-1, hai fatto praticamente tutto da solo all'interno dell'area di rigore del Pescara. Sì, ho visto il maestro tirare primo, ho fatto due tocchi, tre, però non fai velocissimo arrivare al difensore. Io penso con la testa, lui fare così, due tocchi subito, io tiro in porta, arrivato al momento, un gol. Sul primo gol, che ci puoi dire? Una deviazione di Bettella o più il tocco di spalla tua? Sì, primo tempo ho toccato un po', però secondo me ho fatto in campo otto gol, però dopo finire la partita, ho visto il mio telefono e tu gli ho fatto due gol, è un complimento. Quindi quanto sei stato vicino a gennaio l'anno scorso a vestire la maglia del Pescara, perché Pilonna ti voleva? Sì, ho visto così, io fare il contratto qua. Ma l'anno scorso quanto sei stato vicino a venire a Pescara? No, 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 io dietro loro, io rimani qua. Sì, io sono di Salerno, sì, io fare il contratto qua a 4 anni, io solo pensare a giocare a Salerno, sì, speriamo bene quest'anno. Vi aspettavate questo Pescara oggi, squadra che lo scorso anno ha fatto i play-off, oggi in difficoltà al cospetto della Salernitana? Sì, rispetto a loro, la buona squadra, ho giocato bene, l'anno scorso ho giocato play-off, noi, e soffri tanto l'anno scorso, noi abbiamo bisogno di più, bisogno di fare di più, però ho giocato bene il campionato. Però speriamo, continuiamo così. Grazie. Grazie.